Cronaca di un disagio ferroviario di un pomeriggio di mezza estate. Protagonisti, ieri, i viaggiatori del treno regionale 5073 Isernia-Napoli sarebbero dovuti partire alle 14.11 per arrivare a Napoli centrale alle 16.09. Ma qualcosa è andato storto sin da subito. Dalla stazione del capoluogo Pentro sono arrivati a Venafro con un autobus sostitutivo. Da lì avrebbero preso un treno alla volta della destinazione finale. In realtà a Venafro il treno c'era, ma a causa di un'avaria impossibile partire. Bisogna attendere un pullman sostitutivo, un altro, è stato detto loro. Intanto, nell'attesa, insieme al disagio acuito dal caldo torrido, nessuno ci ha assistito, neanche una bottiglietta d'acqua hanno lamentato. Il timore, per alcuni tra loro, di perdere delle coincidenze con altri mezzi. C'è chi avrebbe dovuto prendere un aereo a Capodichino. La mia domanda è questa, se a Monte sapevano che il treno non funzionava, come mai ci hanno fatto salire sull'autobus e fatto venire fino a qui? Qui c'è gente che deve prendere l'aereo. Coincidenze, ci sono bambini, ci hanno lasciato senza acqua. L'unico che si è informato è il capotreno, che è stato molto gentile per fare delle pressioni, per farci arrivare un autobus adesso. Loro dicono tra 20 minuti. Non mi meraviglio perché in Italia non funziona niente, è tutto peggiorato. La cosa è che i servizi non funzionano. Treni vecchi di 50 anni, 40 anni. Non c'è speranza. A Milano in realtà dovrei prendere la coincidenza. Se ce la faccio. Spero di sì. Niente, siamo rimasti a piedi. Aspettiamo l'autobus e speriamo che arriva presto, se no perdiamo anche le altre coincidenze. Devo andare ad Acropoli, a Castellabate, ma ho dubbi. Ho dei dubbi. Alla fine l'arrivo dell'autobus sostitutivo non cancella per i malcapitati viaggiatori la brutta esperienza di un viaggio iniziato male che, per alcuni, a causa delle coincidenze in bilico, ha rischiato di finire anche peggio.